E vorrei farvi vedere come mettere i trucchi su Shadow Fight Un programma, un gioco su Facebook Ok, come di tutto dobbiamo vedere sempre il cheat engine Apriamo Questa è la schermata di cheat engine Beh, dopo bisogna andare su mozzina Firefox per forza Sembra come l'altro video, come ho mostrato in un altro video E andare sul gioco, su Shadow Fight E vi farò vedere una mossa Vabbè, mettiamo sempre lo stesso Flash Player Plugin Ok, adesso qui dobbiamo mettere A posto di 4 bytes mettiamo Double E a posto di XCAT Valve mettiamo Valve Return Ok, qui mettiamo 10 E 10 Ultimo First Scan Ok, ci scanno questi numeri Da qua Clicchiamo il primo Sempre cliccando Shift fino a giù E clicchiamo il secondo, l'ultimo Ok, adesso clicchiamo qui Sembra lo stesso Da qua, fino a giù con Shift Invio E mettiamo, per esempio, la potenza di ogni mossa che noi facciamo Per esempio Mettiamo 1000 Ok Adesso vedremo Com'è Andrà in gioco Combattere Torni Due naviche Mettiamo Due naviche euro Ok, guardate Non so perché Ecco, avete visto? Con un solo colpo L'ho fatto fuori Ecco, avete visto? Con un solo colpo Per questo è il momento Ok 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 Poi c'è un altro tocchetto però Che credo che funzioni però Non tanto bene Il fatto di E' un'ora speedhack Mettiamo un esempio A2.0 Guarda 24 Fa subito Va più veloce Per esempio Mettiamo 10 1.0 Vedi, guardate Come Vado più veloce qui Certo Però non metto Messo fino A 1.0 Perché se no Dopo si toglie Si ricarica la pagina da sola Ok Questo era Il mio video Mettete un mi piace E commentate E se volete anche iscrivetevi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti